Sessore Di Matteo, il Giro d'Italia torna in Abruzzo, torna nella tappa Blockhouse, una tappa per la valorizzazione del territorio abruzzese. Dopo oltre 50 anni ritorna questa tappa che fa l'arrivo al Blockhouse, una tappa bellissima che attraversa le zone più belle delle montagne abruzzesi, la Maiella, e che arriva riproponendo quella che è stata la tappa vinta tanti anni fa da Merckx. Il Comune di Roccamorice farà un'iniziativa promozionale creando un riferimento per Merckx che sarà un punto di promozione per questa bella realtà di un paese straordinario dove arriverà la tappa, Roccamorice. Lavoreremo a costruire anche nei momenti di promozione attiva che saranno utili a valorizzare in un momento così difficile per l'Abruzzo questa grande ricchezza che è il patrimonio di bellezze naturali della Maiella. Una grande giornata di sport, una giornata dedicata ovviamente alla grande passione del ciclismo, una grande vetrina perché è il centesimo Giro d'Italia, e una grande tappa sia dal punto di vista sportivo e agonistico, con la impegnativa salita di Roccamorice, sia dal punto di vista ovviamente della promozione del territorio perché si toccherà la costa dei Trabocchi e il Parco Nazionale della Maiella. Mi sembra davvero che gli ingredienti ci siano tutti e per finire diciamo che abbiamo dedicato nel 2017 e il 2017 al ciclismo. È davvero l'anno del ciclismo in Abruzzo e immaginiamo che le due ruote siano davvero un grande veicolo di promozione territoriale. Qualche comune ha lamentato il fatto che altre strade danneggiate nel periodo del maltempo non siano ancora state rimesse a posto. Guardate, io dico che ogni qual volta si presenta l'occasione per investire sul dissesto e sulle manutenzioni, ecco, quell'occasione è gradita. La Regione davvero ha dato di tutto per quanto poteva rispetto sia al maltempo e sia a questo grande appuntamento e continueremo a farlo perché abbiamo e stiamo investendo diversi milioni di euro. Sappiamo ovviamente che le esigenze e le aspettative sono molto più alte delle disponibilità allo Stato economiche che ci sono, ma insomma continueremo a impegnarci. È importante comunque intervenire e ogni appuntamento deve essere buono per intervenire sulla nostra mobilità e viabilità. Grazie a tutti.